Musica 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 Senti Presenta Tali Onori ai caduti Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oltre 35 milioni di euro per il pagamento del beneficio economico in favore delle persone con disabilità gravissime per i mesi di giugno e luglio. L'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali e del lavoro ha impegnato la somma per le due mensilità a valere sul fondo regionale per la disabilità. Anche quest'anno, con l'approssimarsi delle ferie estive, dichiara l'assessore Nuccia Albano, abbiamo deciso di impegnare la somma di due mesi ed evitare i così possibili arrarentamenti nella rotazione dei servizi. Il 17 luglio 2024 la procura della Repubblica di Catania ha emesso decreto di fermo di indiziato nei confronti di Fulvio Antonino Amante e Gabriele Tosto, in quanto entrambi gravemente indiziati esse stati in concorso tra loro gli autori di rapina malarmata, di tentato omicidio, nonché di porto ed illegale detenzione di armi. Le indagini hanno permesso di acquisire elementi che dimostrebbero come gli indagati sarebbero stati in concorso tra loro gli autori di una rapina malarmata commessa nella zona della scogliera e tentato omicidio nei confronti della vittima. Da una prima ricostruzione si appurava che la vittima, uscita da casa su un'auto, veniva subito bloccata da due soggetti a bordo di uno scooter e che per la resistenza opposta era stato colpito alla coscia sinistra da un colpo esploso da breve distanza, riportando una ferita trapassante con prognosi di 15 giorni. Le attività investigative permettevano di costruire le fasi antecedenti alla commissione dei fatti. Determinante è stato l'invenimento ad opera dei falchi dello scooter utilizzato per la rapina e di uno smartphone in forza di una chat risalente alla notte del 2 luglio 2024, nel corso della quale si alludeva in modo esplicito alla rapina. Entrambi gli indagati venivano tradotti la casa circondaria di Piazza Lanza e poi sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere. Collaborazione tra la regione siciliana e Invitalia per la realizzazione di tre nuovi ospedali a Palermo. Il polo di eccellenza pediatrico, il nuovo policlinico e l'ospedale Palermo Nord, polo onco-ematologico e la restituzione del padiglione A dell'ospedale Cervello, sempre nel capoluogo. Opere per un valore di 747,7 milioni di euro che rientrano nell'accordo tra Stato e regione siciliana sulla spesa dei fondi ex articolamenti per l'edilizia sanitaria. Prosegue il nostro impegno concreto per riqualificare, innovare e adeguare dal punto di vista impiantistico e strutturale gli edifici sanitari dell'isola, dice il Presidente alla regione Renato Schifani. Il nostro obiettivo, grazie anche ai fondi statali destinati alla Sicilia tra Frondi ex articolamenti per l'edilizia sanitaria e PNRR, è quello di costruire nei prossimi anni un sistema sanitario che possa rispondere in tempi ragionevoli a tutti i bisogni di cura e assistenza dei cittadini. Nei giorni scorsi sono stati disposti dei servizi congiunti tra Arma Territoriale, NAS e Nucleo Ispettorato del Lavoro con l'ausilio della Compagnia di Intervento Operativo del XII Battaglione Sicilia, al fine di accertare le condizioni di sicurezza degli impiegati sui luoghi di lavoro. I controlli hanno riguardato una società di ormeggio di natanti. La titolare, una di 53 anni di Catania, è stata denunciata a piede libero poiché è stato accertato che un dipendente dell'attività non risultava essere stato sottoposto alla sorvegliazza sanitaria. Per tale motivo è stata anche verbalizzata amministrativamente con una sanzione di 1.423 euro. Durante l'ispezione poi sono state anche riscontrate alcune violazioni di carattere igienico-sanitario e strutturali che hanno comportato alla donna un'altra sanzione di ulteriori 1.000 euro. I militari dell'arma infatti hanno constatato nei locali cucina tracce di sporco pregresso sulle zone di lavoro e su alcune attrezzature. Successivamente i controlli sono stati eseguiti anche all'interno di un circo di carattere nautico dove anche lì sono state riscontrate delle violazioni igienico-sanitarie e strutturali che hanno chiaramente comportato al titolare un 71enne catenese la medesima sanzione amministrativa di 1.000 euro accertando cappi di espedizione privi di filtri, sporcizia pregresse nei banchi dove riponero le attrezzature e umidità che ha comportato la scrostatura dell'intonico negli ambienti della cucina. I carabinieri della stazione di Mascali hanno arrestato un ventenne nel posto per reati di maltrattamenti in famiglia. In particolare quando nella casemma di Mascali è arrivata la telefonata di una donna spaventata che chiedeva aiuto. I carabinieri sono accorsi in quella via Guglielmo Marconi dove un ventenne stava usando violenza contro la sorella 24enne e i propri genitori. Arrivati presso l'appartamento i carabinieri hanno trovato ad attenderli su strada in evidente stato di agitazione la sorella dell'uomo la quale presentava dei vistosi graffi sulle braccia e al collo. I militari hanno quindi rassicurato la giovane donna mettendola in sicurezza e sentendo urle o rumori provenienti all'interno dell'abitazione si sono affrettati ad entrare in casa dove tra sopra mobili rovesciati e altri oggetti sparsi per terra hanno trovato la madre della richiedente anch'essa con evidenti segni rossi sulle braccia. Il ventenne in evidente stato di agitazione ancora dentro l'appartamento è stato subito bloccato. Le donne ormai sicure grazie alla presenza dei carabinieri venivano fatte accompagnare in ospedale dove i medici li scontravano per entrambe con intusioni in multiple. Il giovane aggressore veniva invece condotto in caserma e arrestato per il maltrattamento in famiglia e disposta per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari. L'Europa meridionale è sottoposta a un'ondata di caldo estremo causata dall'anticiclone africano che attraversa la regione. A Roma le temperature hanno superato i 40 gradi e il Ministero della Salute ha allertato la capitale e altre 16 città italiane. Bollino rosso e canicola che dovrebbe dare tregua nelle prossime ore con la partenza di Caronte. Nei giorni scorsi il caldo torrido è stato la causa di quattro decessi, tre in Puglia e uno a Roma. A Madrid le temperature hanno raggiunto i 30 gradi e il Governo ha avviato una campagna di sensibilizzazione sul rischio calore che potrebbe portare allo stop del lavoro all'aperto. Anche altre sei regioni spagnole sono in allerta per le alte temperature. In Grecia i lavori all'aperto, in particolare quelli manuali come le consegne e le costruzioni, sono già stati vietati durante le ore più calde della giornata. Le temperature notturne in alcune zone di Atene sono rimaste sopra i 30 gradi negli ultimi dieci giorni. In Portogallo circa 40 comuni sono a rischio incendi rurali a causa del caldo. Le temperature rimangono elevate anche a Lisbona, dove la gente si è diretta in spiaggia per far fronte alla canicola. L'ondata di calore dovrebbe durare fino a domenica. I picchi di caldo sono sempre più durevoli, tre giorni in più per decennio. Sono più vasti, in media e più intensi. Le previsioni meteo in Sicilia Martedì 23 luglio di Globus Television Martedì 23 luglio di Globus Martedì 23 luglio di Globus